Riprendiamo da questa prima pagina del giornale, arrivederci flat tax, ieri c'è stato questo giallo di come era una flat tax per due o per tre, tutti esponenti leghisti con cose dette in modo diverso, in realtà sarà graduale, la vogliamo spiegare bene? Questo l'abbiamo detto dall'inizio, è graduale, prima l'impresa ma soprattutto prima serve la faccia fiscale per iniziare intanto Assolutamente, sulle cartelle ovviamente quelle che oggi l'erario non riesce sostanzialmente a riscuotere, è importante perché quando si decide di cambiare il sistema di tassazione bisogna prima sanare tutto il pregresso perché altrimenti chiaramente non potrebbe esserci una base su cui costruire un rapporto di fiducia con i cittadini Posso solo interrompere perché la conosco come persona seria e anche qui a me piacciono i numeri, voi avete fatto un calcolo rispetto alla pace fiscale, avete fatto di base a cartelle di tante di quelle aziende che oggi non esistono neanche più Perché sono morte proprio per un motivo che riguardano tantissimi anni fa, calcolate 37 miliardi, dopodiché sapete benissimo che questa non potrebbe neanche essere la cifra in grado di essere raggiunta perché non c'è mai stata nella storia la possibilità di riscuotere così tanto su un calcolo simile La pace fiscale quanto può portare alle casse dello Stato per garantire poi le coperture successive per la flat tax? Noi siccome siamo prudenti, quando noi parliamo di applicazione di flat tax è di quella che dovrebbe essere il raggiungimento poi effettivamente della liquota unica quindi un momento in cui c'è una trasformazione del sistema evitando il blocco dei flussi per lo Stato perché il problema non è solo l'ammontare è il fatto che oggi lo Stato prende dalle imposte con le anticipazioni un flusso che è costante che gli permette la spesa corrente quindi per far questo noi prima di tutto dobbiamo verificare quanto possiamo portare a casa quindi noi abbiamo fatto una previsione ma non sappiamo e quindi quando mi si chiede oggi entrerà la flat tax nel 2018-2019 se sono le imprese, se sono le famiglie prima bisogna vedere quanto si incassa dalla pace fiscale e quella che è secondo noi l'incentivo che viene dato e la motivazione anche da parte delle imprese perché non solo ci sono tante imprese che hanno chiuso ma ci sono tante imprese che rischiano di chiudere quest'anno per questo problema sulle cartelle esattoriali oltretutto a noi conviene fare questo tipo di operazione perché vuol dire in quest'anno probabilmente agevolare le aziende che stanno cercando di mettersi in regola soprattutto in alcuni settori, io da assessore allo sviluppo economico negli ultimi anni solo in regione Liguria la maggioranza di aziende che hanno chiuso hanno chiuso per mancanza di liquidità interna all'azienda ma come si fa a distinguere, questo mi viene sempre una preoccupazione di fronte a un condono come fai a distinguere tra quelli che non ce l'hanno fatta pagare e quelli che hanno fatto i furbi cioè non è possibile che questa misura rischi anche di aiutare e di alimentare l'evasione perché uno dice perché io devo pagare? Io che sono sempre stato corretto adesso vedo che questo governo salvaguarda quelli che non hanno pagato Degli strumenti ci sono ma il problema grosso è questo è il fatto che fino ad oggi ad esempio su tutta una serie di norme legislative non erano previste in asprimenti di pena oggi noi con la flag tax proponiamo da una parte una diminuzione delle imposte dall'altra parte un aumento fortemente delle misure coercitive nel caso non vengano pagate le tasse è chiaro che noi non possiamo giudicare prima a meno che non ci siano delle situazioni comprovate di evasione ma questo è la guardia di finanza che lo fa e nessuno ha un evasore di può fare dei condoni quindi il momento in cui viene fatto il condono vengono stracciate delle cartelle ad esempio, faccio un esempio, tutto il settore dell'ambulantato che ha avuto dei problemi grossissimi con la crisi che ci sono stati negli ultimi anni oggi una buona parte del settore tiene aperto ma magari ha dei debiti che gli impediscono anche di operare in maniera regolarmente laddove sono attivate delle procedure come ad esempio le carte di esercizio o altre perché l'ambulante prima di pagare magari l'Inps o il dipendente ha pensato di pagare lo stipendio su questo con dei controlli incrociati ci si può arrivare il problema è capire se allo Stato è più utile che un'azienda chiuda o è più utile che un'azienda si possa risanare però una battuta solo per questo perché poi oggi io in aula sentirò il discorso di Conte ma in una legge di bilancio, qualsiasi legge di bilancio a proposta ci deve essere la copertura allora voi dite flat tax ma prima della flat tax ci deve essere una pace fiscale da cui però non sapete quanti soldi ricaverete però quei soldi vi servono per coprire in parte la flat tax allora meglio quello che dice il vostro ministro Tria che dice ma guardate io per coprire la flat tax che è una cosa che condivido dico che deve scattare l'IVA perché a quel punto io le coperture ce le ho certe cioè attenzione perché poi i numeri cantano e dicono la verità bisogna dire ai cittadini italiani in che modo voi che avete in mente una proposta che per noi è iniqua che l'abbiamo già fatta per le imprese quindi ieri io quando ho sentito bagnare non solo per le imprese ma sono fatte anche per gli affitti ho capito però perché l'accedolare secca di fatto è una flat tax che ha aumentato dopo di che allora voi dovreste fare l'accedolare secca solo per le famiglie allora da quest'anno io me la dovrei aspettare quello che dico è che l'introduzione ad esempio dell'accedolare secca facciamo la cosa più semplice l'accedolare secca sull'affitto ha portato a un aumento sia delle persone che non tengono la casa chiusa ma che l'investe ossia è la prima volta che lo Stato ha incamerato più soldi rispetto al sistema precedente questo fa pensare che l'introduzione di misure analoghe nel settore delle imprese e poi nel settore del famiglie fatte in maniera graduale proprio per il fatto che la trasformazione di un settore ma per le imprese sei tax a 15 o al 24 come c'è di già? perché io non ho capito anche questo ieri dal discorso bagnai, siri e il resto del mondo cioè qual è la quota? perché al 24 c'è già allora quindi voglio dire se c'è già perché l'ha fatta il governo Renzi significa che dovreste abbassarla a quanto la fate? quello che intendeva il vostro responsabile economico è al 14, è al 15, a quant'è? perché a me serve capire quando ci sarà la legge di bilancio quali saranno le coperture sulla base della cifra che voi metterete perché la Fed Tax costa 50 miliardi io sono d'accordissimo al 24 scende al? da noi vorremmo farla scendere al 15 in maniera graduale in modo che, torno a dire, ci sia e si verifichi un aumento perché il primo anno non ci sarà ma successivo delle entrate far entrare in maniera differenziata le imprese e le famiglie consente di evitare eventuali cadute di entrate nell'anno in cui si entra la nostra previsione entro il 2020 è quello di riuscire a portare sia le famiglie sia le imprese a avere una liquota unica con le detrazioni per i figli e con quindi partirete da lì niente del reddito di cittadinanza perché i soldi poi devono tornare il reddito di cittadinanza è su un altro settore che riguarda una parte di legge di bilancio che riguarda anche le misure le misure del lavoro e il misure ma la cifra la quota finale di soldi a disposizione ma noi riteniamo che alla fine lo Stato incassi di più anzi lo spero quello che voglio dire arrivo De Palma sento la risposta di riusci ma arrivo a lei sicuramente il discorso di introdurre la flat tax in Italia è un cambio è una rivoluzione e quindi non è che il cambio epocale si decide in due ore o in cinque ore perché se fossimo al primo giorno di governo al di là del fatto che dobbiamo ancora tenere la fiducia da Camera del Senato quindi ancora prima di avessimo anche lì è una questione di numeri li avete avessimo già no avessimo già risolto il problema della flat tax in Italia probabilmente come posso dire c'è il giorno dopo ci chiamerebbero tutti negli Stati Uniti o da qualche parte a gestire le finanze americane cioè il problema è che è chiaro che non si inventano e non si cambiano le cose con uno schiocco di dita però riordinare il sistema fiscale è sacrosanto giustamente il discorso delle detrazioni in Italia ce ne sono oltre 700 un cittadino oggi non è in grado di sapere quanto pagherà di imposte l'anno successivo deve avere o il consulente o il commercialista o andare a un capo è chiaro che da questo punto di vista quello che a noi piacerebbe fare come in tutti i paesi moderni è che arriva un'email a casa e ti dice tu quanto dovrei pagare di tasse ti fa già la dichiarazione in modo che tu puoi verificare puoi verificare quella che c'è di già è un po' diversa e tu hai la possibilità di capire già a fine anno o comunque quello che sarà la tua uscita e ti puoi così pianificare è anche un modo per educare le persone a gestire a pianificare quelle che potranno essere i loro impegni futuri è chiaro che questo vuol dire anche cambiare le responsabilità è chiaro che vuol dire anche secondo me far diminuire i furbetti perché poi quando ci sono le detrazioni eccetera ci sono persone che sono regolarissime c'è gente che si inventa delle cose straordinarie per riuscire a e quindi è anche più equo perché alla fine non è che quello che non ha il mega commercialista che lo segue e magari non riesce a sfruttare esatto allora deve pagare più tasse e in questo dal mio punto di vista in un sistema come il nostro dove c'è tantissima piccola e piccolissima impresa che comunque molto spesso è anche come posso dire da quel punto di vista lì la gestione di tutta la parte fiscale non è aggiuntivo rispetto a quella che è l'attività è un modo anche da quel punto di vista di essere più vicino a un certo tipo di tessuto quindi partirete da quello fatto dal governo Renzi sostanzialmente no perché per forza partiamo da quello fatto dal governo Renzi si parla di si parla di fattax anche per le famiglie riguardi tutte le famiglie quindi non le imprenditori ma le famiglie sia dell'operaio sia del lavoratore dipendente sia del lavoratore non dipendente e oltre questo l'altro elemento è che la trasparenza la semplicità impedisce il fatto proprio dell'evasione fiscale oggi in Italia è facile evadere perché ci sono tante tali leggi tante tali agevolazioni che in realtà diciamo che più molto spesso più che un'evasione vera e propria c'è una sorta di elusione si utilizzano stramenti impropri per aggirare la legge quello che a noi piacerebbe è creare un sistema dove il cittadino ha poche norme chiare e non può uscire da queste poche norme e chiare questo vale soprattutto per le imprese perché ovviamente le imprese devono avere una tassazione in Italia mi perdoni che sia almeno la pari con quella di altri stati europei perché se no rischio la delocalizzazione delle imprese da questo paese cosa che poi si porta dietro una serie di posti di lavoro l'abbiamo visto anche in passato quindi quando l'Europa si è aperta a est noi non possiamo pensare che il nostro competitor sia solo la Germania e la Francia noi abbiamo aziende italiane che chiudono in Italia aprono in altri paesi dell'est Europa come da altre parti oltretutto oggi con la la possibilità molto spesso di andare a operare su le nuove tecnologie consente di poter fare produzioni delocalizzate avendo la possibilità di gestirle dallo stesso territorio nazionale a noi conviene far diventare competitive le imprese dal punto di vista fiscale in Italia perché questo vuol dire anche fare poi una serie di norme per consentire di tenere le imprese sul nostro territorio e di consentire un aumento dell'occupazione anche dei lavoratori dipendenti perché se non ci sono più imprese non ci sono più lavoratori io vorrei che fosse lei a dialogare con il rappresentante sindacale sì io credo che lì ci sia da mettere veramente prendere in mano tutta la questione perché le scene che si vedono e purtroppo l'episodio che si è verificato questo tragico ma diciamoci la verità nei vari anni ci sono stati moltissimi episodi più o meno tragici che hanno riguardato questa situazione è legata strettamente a un settore che fatica anche ad arrivare a una modernizzazione perché in questo caso effettivamente è uno degli elementi in cui la mano d'opera soprattutto straniera viene vista come il modo di avere della mano d'opera sotto costo ha quasi zero tipo di garanzie o protezioni di tipo sindacale di tipo sociale e qua è uno dei problemi credo grossi del paese perché noi abbiamo in alcune aree una situazione dove effettivamente c'è una c'è stata anche una mancanza da parte dello Stato e legato questo alla situazione sui fenomeni migratori rischia di creare grossissimi problemi ma lui ha chiesto una cosa specifica ha detto la Bossi Fini non aiuta noi sindacalisti a svolgere bene un lavoro che potrebbe consentire invece di tutelare il lavoro che i braccianti che ci sono perché la produzione è terza a livello europeo bisognerebbe anche verificare allora la situazione sui braccianti intanto come posso dire chi va e vede io non ci sono andato direttamente ma un po' di persone che conosco ci sono andate direttamente sia le condizioni di vita che non è la Bossi Fini che fa vivere in quella maniera lì ma come posso dire è la situazione che si è andata a creare in quell'area l'altro elemento è che se noi nel 2018 pensiamo ancora di raccogliere i pomodori come si faceva nell'ottocento posso dire una cosa o di raccogliere gli aranci solo perché si può utilizzare della mano d'opera sotto costo credo che siamo al di fuori di qualsiasi idea di sviluppo agricolo del mezzogiorno è chiaro che c'è un sfruttamento ma c'è un sfruttamento nella misura in cui è stata consentita un'immigrazione molto forte dai paesi del Nord Africa molto spesso buona parte di queste persone non si rivolgono alle istituzioni perché spesso non sono neanche in regola e quindi vengono assolutamente ricattati sono assolutamente ricattati hanno la pelle bianca e sono dei datori di lavoro ho capito ma il problema non è di pelle i delinquenti ci sono bianchi rossi verdi gialli sono delinquenti però di queste situazioni noi ciclicamente accendiamo il faro e poi nessuno controlla il problema è che quando si dice che l'immigrazione incontrollata e non gestita crea problemi legati anche allo sfruttamento della monodopera dell'immigrato e all'eliminazione dei suoi diritti questo ne è un esempio questo ne è un esempio di quello che si è generato nel paese dopo anni in cui si è lasciato un settore nella totale sostanzialmente disorganizzazione grazie